Non si risenta Gabriele D'Annunzio, ma il piazzale che porta il suo nome nella zona levante del lungomare di Pesaro rischia seriamente di essere ribattezzato piazzale dei motori. Oppure piazzale Valentino Rossi, perché le moto e le sue re diventeranno il tratto distintivo di questa porzione di lungomare da sempre un po' meno animata di quella di Ponente. Però si vuole invertire la tendenza e oggi il sindaco Matteo Ricci, accompagnato per l'occasione da buona parte della giunta, ha elencato i motivi per cui scommettere su questa zona. Intanto è stato messo il primo tassello, con un circuito allestito grazie alla generosità dello sponsor Tomasucci, che farà di questa piazza un'area divertimento per i bambini che potranno dilettarsi con piccole moto-giocattolo. Moto che inizialmente custodirà la pizzeria La Dolce Sosta, ma che poi saranno gestite da un food truck, altra novità per la zona, che stazionerà per l'estate in questo piazzale, replicando un esperimento già testato in Calata Caio d'Uilio. Da luglio invece cambierà radicalmente il volto del piazzale perché sarà installata una monumentale opera artistica dedicata alla carriera di Valentino Rossi. Un maxicasco che replicherà l'ultimo indossato in carriera dal dottore. Un casco da leggenda è il titolo dell'opera che sarà realizzata dalla ditta Extra Lab di Riccione e che sarà inaugurata il 25 luglio alla presenza dello stesso Valentino Rossi. Quest'anno abbiamo voluto riprendere sul discorso di riqualificazione di piazzale d'Annunzio per riuscire comunque sia a dare anche un respiro all'altra parte di Viale Trieste, visto che ci si è concentrato molto negli ultimi due o tre anni sulla zona che va verso il porto. Quest'anno su piazza d'Annunzio abbiamo voluto mettere un po' la testa e abbiamo ideato questo luogo che è un luogo a disposizione di famiglie, dei più piccoli e incentrato sulle moto, moto mondiale, moto. È venuta questa idea e partita dal fatto che il sindaco ha chiesto di poter realizzare un'opera dedicata alla carriera, alla leggenda di Valentino Rossi e allora pensandoci un po' siamo riusciti ad arrivare a questa bellissima idea ovvero il casco più grande del mondo. Le demissioni del casco sono indicativamente 5 metri e 30 di lunghezza, quindi insomma è un'opera abbastanza importante, la larghezza di proporzione è circa sui 3 metri e 60 per un'altezza di circa 3 metri e 60, 3 metri e 80. Il casco poi viene inclinato di 15 gradi per dargli una posizione più naturale che sono le classiche esposizioni dei caschi, quando anche negli stand o comunque nei negozi si espone il casco, si espone sempre nella posizione in cui il pilota lo indossa perché se noi appoggiamo un casco per terra la visiera non è naturalmente portata verso a guardare avanti ma ha un punto di vista più alto. Quindi il casco viene realizzato con un estruso di plastica riciclata e fibra che diciamo da una prima forma, dopodiché viene lavorato a mano, viene resinato tutto per essere lisciato, per dargli più resistenza e poi dentro c'è una centina interna che è quella che dà la struttura e che rende stabile il casco a terra con dei contrapesi. Contiamo di inaugurarla con Valentino Rossi che ci ha dato la sua disponibilità il 25 di luglio proprio in questo posto. Quest'area come vedete è un'area, come dicevo prima, ludica, dedicata alle famiglie e bambini, ci sono delle mini moto, ci sono delle sedute, il nuovo manto di erba sintetica, tutto questo è stato realizzato grazie a un'azienda importante del territorio che è Tomasucci che ci teniamo tanto a ringraziare. Accantonata l'idea di un parcheggio interrato, Piazzale d'Annunzio punterà ad essere una piazza sempre più a misura di pedone e con un occhio estetico attento anche a ciò che lo circonda. L'ordinanza per la cosiddetta guerra al brutto di Ricci ha infatti portato a mettere mano al restyling dell'hotel Vienna e a breve toccherà anche al degradato edificio sovrastante il ristorante L'Artista.